L'elezione di Roberta Mezzola a Presidente dell'Europarlamento è un momento di grande gioia per tutto il movimento pro-life europeo e certamente per noi del popolo della famiglia qui in Italia. Siamo soddisfatti di vedere continuità tra la presidenza cattolica di David Sassoli e quella esplicitamente pro-life di Roberta Mezzola di una maltese. Ricordiamo che a Malta l'aborto è negato anche in caso di stupro. La difesa del nascituro è la difesa di un diritto proprio della persona umana e noi salutiamo in Roberta Mezzola la donna che si era battuta nel 2021 contro il rapporto Matic, proprio il rapporto che voleva proclamare l'aborto come diritto. D'altronde David Sassoli nel 2013 si era battuto astenendosi sul rapporto Estrela e con questo aveva testimoniato la sua radice cattolica. Una radice, diciamoci la verità, che è confermata dall'elezione di Roberta all'Europarlamento perché l'Europa senza radice cristiana non esiste.